buona serata e ben ritrovati per l'ultima volta nella giornata di oggi vi racconto in questo ultimo video odierno della partita di serie a2 primavera di calcio maschile giornata numero 16 cremonese milan il mio milan ha fatto l'ennesima vittoria questa volta in casa della cremonese vincendo per 2 a 1 con il vantaggio prima nel primo tempo poi nel secondo è piccolo tentativo di riapertura della gara della cremonese ma niente da fare milan quindi che continua il suo percorso a vele spiegatissime 44 punti prima posizione 14 vittorie due pareggi e zero sconvitte 50 col fatti e 13 subiti la cremonese è ultima ricordiamo che non nella serie a2 non retrocede nessuno perché non c'è un campionato di serie b primavera la cremonese ultima con al dodicesimo posto con 12 punti ed è la terza sconfitta nel giro di cinque partite il milan sarà impegnato settimana prossima a parma che al momento all'ottava posto con 18 punti ma viene da 4k o di fila quindi attenzione cari ragazzi rossoneri mentre la cremonese la prossima la giocherà il sembra il 15 febbraio in casa del bordenone che quindi da 22 punti calotta per un basso al sole nel playoff con 22 punti diciamo che l'ultima che sta in zona playoff il verona quota 29 punti quindi chiudo dallo studio qui ribadendo che il milan vince la sua ennesima partita stagionale in trasferta cremona contro la cremonese per 2 a 1 ciao a tutta domani con tanti altri video è sempre forza milan ciao